Siamo qui con il Presidente Perostad per chiedere la sua opinione riguardo il notizio proposto dal Movimento Generalista Europeo a New Deal for Europea. Qual è la sua opinione? Io sono molto in favore di una politica di sviluppo a livello europeo. È necessario, l'ostenità al suo momento non va a uscire l'Europa dalla crisi. È necessario anche di sviluppare una strategia economica in Europa. È assolutamente necessario di far basare gli interessi in Europa per sviluppare gli investimenti in economia. E le accordi di un suonarco di migliori di firme in tutta Europa? Speriamo, speriamo.